ciao a tutti bentornati da evitube su evitube oggi si parla di death metal e in particolare parliamo ma l'avrete già visto in realtà dalla copertina del video del nuovo disco dei disantum terzo album per questi australiani brutallari che ho seguito si dall'inizio già dalla demo che precedette il l'esordio sanken chambers of nephilim perché perché erano uno dei pochi gruppi brutal che avevano secondo me un gran tiro e mi erano piaciuti da subito davvero cazzuti hanno proseguito poi con misery un ottimo disco che aveva già qualche intuizione diversa rispetto al solito e giungono con questo dediche in light punto terzo album caso esce per unique leader che rappresenta sicuramente un momento un po di rottura rispetto a quanto fatto in precedenza diciamo che quest'anno io in ambito del finora non ho trovato moltissimo molte cose che mi abbiano particolarmente stupito direi che per il momento questo 2019 mi sta piacendo di più per quanto riguarda al heavy metal classico la cosa che un po mi preoccupa il fatto che per quanto riguarda il death metal le cose che mi siano piaciute di più siano arrivati in realtà da da veterani da vecchie glorie da vecchietti sostanzialmente quindi parliamo del disco dei possessed parliamo dei nocturnus parliamo di ultimas che si è un gruppo nuovo ma in realtà e sono tutti vecchi volponi e poco altro fortunatamente arriva appunto questo dediche in light che secondo me uno dei rischi più belli di quest'anno in ambito death metal e aspetto con molto interesse e speranza il il i nuovi uno sprechi che in cult e in nivumus eccetera eccetera mi è piaciuto molto in realtà anche le pd sacramente dei lucifer però per il resto non non mi sono stupito più di tanto comunque ripeto dediche in light sicuramente uno degli highlight per quanto riguarda il death metal di quest'anno perché perché nonostante ci sarà sicuramente qualcuno che griderà al tradimento o la band che si è rincoglionita o la band che segue le mode o la band che si è ammorbidita eccetera eccetera è sicuramente a casa mia e il loro lavoro migliore perché perché per una volta una band che parte dedica ad un brutal tutto sommato tucur estremamente quadrato e anche ottuso ma ottuso nel senso positivo del termine se capite quello che intendo una band che parte dai soliti nomi perché comunque la base di isentum e la solita di sgorge di fitted sanity sappocation sempre quella la base sostanzialmente quindi partendo da qua la benda ha deciso di seguire alcune intuizioni già presenti appunto i miseri per stravolgere un po il sound e quello che ne esce è un disco sicuramente più borderline quindi che viaggia fra il brutal e il death metal adesso ma come potremmo definirlo sostanzialmente se la strada maestra è sempre quella appunto no dei nomi che ho fatto prima quindi sappocation di sgorge di fitted sanity eccetera eccetera adesso la band alla band cosa piace fare piace prendere ogni tanto qualche strada strada secondaria che ogni tanto prende il nome di ulcerate altre volte di molation e via così ne consegue che il viaggio diventa sicuramente più stimolante sicuramente più vario più eclettico più più interessante in generale e quindi abbiamo siamo al cospetto di una vende sicuramente meno quadrata meno integralista e oltransista rispetto al passato ma dotata di una intelligenza compositiva sicuramente più raffinata e nel complesso più interessante da parte mia il che non significa che non manchino le mazzate brutal più propriamente dette la velocità è sempre presente però il songwriting si è sicuramente sicuramente raffinato ed è diventato molto più versatile anche a livello a livello di sonorità quindi livello di suoni l'approccio di disentumbe sicuramente cambiato meno caotico più più focalizzato così come appunto il le strutture dei brani sono sicuramente più imprevedibili rispetto al passato quindi all'interno comunque di ogni singolo brano c'è questo questo gioco di di dissonanze che non diventano mai comunque eccessive ma sono sempre poste nel momento giusto nella giusta quantità parlare di melodia forse eccessivo però comunque c'è un'attenzione maggiore anche in questo caso e questo cosa fa permette a ogni singolo brano di avere grosso modo una propria identità e questa non è una cosa da poco all'interno sia del genere o all'interno di un disco che comunque dura tre quarti d'ora abbondanti si abbondanti tre quarti d'ora che duri sui 44 minuti quando comunque i dischi precedenti se non mi ricordo male arrivavano più o meno mezz'ora che parliamo comunque di un genere che tende per forza di cose per antonomasia a stancare può capitare ogni tanto di distrarsi un attimo in the decaying light questo non accade non accade perché siamo di fronte a una band sicuramente in stato di grazia che ci ammazza male sia quando viaggia a pieno regime e quindi sia quando si lascia andare in tecnicismi notevoli tra l'altro comunque parliamo di una vende tecnica e blast beat furenti sia quando si lascia andare invece in quando si dedica a passaggi un po' più un po' più dunque un po' più rarefatti un po' più sulfure e atmosferici perché effettivamente dedica in light è anche un disco brutale sì ma atmosferico stupisce quanto in realtà la band riesca ad esprimersi nel migliore di modi anche nei passaggi più lenti più monolitici ed asfissianti parliamo ad esempio in pezzi come gli small liturgies o invocation in the category of dust che sono tra l'altro entrambi verso la la fine del disco ed è interessante come il lavoro di chitarra in in questi due pezzi mi ricordi molto quando avvicini la band ad esempio ai living earth di dancing the electron e per me è un complimento incredibile perché io amo alla foglia quel disco e quel gruppo uno dei dischi più belli se non ricordo male del 2015 e quindi questo avvicinarsi un po' alla anche alla scuola immolation sostanzialmente perché comunque già gli ulceri te riprendono da immolation non possiamo negare questa cosa qua è molto simile a quello che viene fatto in quel disco lì appunto dei check living earth il che non significa che adesso si siano messi a scimiotare gli living earth no perché comunque poi per il resto l'approccio è sempre quello del brutal ma non viviamo più solo di forza brutale ma ci dedichiamo anche alla creazione di atmosfere di armonizzazioni interessanti senza però perdere in impatto il disco dall'impatto mostruoso anche visivo perché comunque la copertina è sicuramente una delle più belle di quest'anno e che dire sicuramente ripeto ci sarà gente che avrà da ridire su questo disco ma secondo me è un peccato fermarsi al non pestano più come un tempo è sicuramente un peccato ed è anche riduttivo nei confronti della della band in generale ma dello stesso genere è sicuramente diverso e nonostante questo non è un disco a mio parere di difficile catalogazione o di difficile assimilazione ma a me è piaciuto in realtà subito dal primo ascolto e dal primo ascolto ho capito che era già il mio preferito della band sicuramente comunque è un disco che si svela col tempo con gli ascolti ci sono tanti particolari che magari all'inizio sfuggono e tanti accorgimenti che prima sicuramente non c'erano il lavoro di basso che sentirete in Dedicated Light è notevole e sicuramente superiore a quanto siamo riusciti comunque a sentire nei precedenti lavori per cui ragazzi che dire da parte mia un disco promosso pieni voti terzo lavoro importantissimo per questa band australiana e speriamo che comunque si proceda su questi passi in futuro e vediamo un po' che cosa succede come al solito curiosissimo di sentire la vostra sul disco in questione e ci rivediamo sulle pagine di VTube per parlare ancora una volta di heavy metal ma non vi dico di che band grazie ancora per essere stati con me a presto e ciao ciao ci vediamo nei commenti sotto al video ciao